Innanzitutto, per chi non ti conosce, chi è Marco Cavicchioli? Allora, io di professione sono proprio divulgatore nel settore delle criptovalute. Anzi, in realtà, visto che io lavoro sia per il Cryptonomist, per il quale scrivo molti articoli, sia sul mio canale YouTube, in cui faccio divulgazione criptovalute, praticamente in Italia sono la singola persona che produce più informazioni sulle cripto, perché a forza di fare articoli e fare video, insomma, c'è una produzione veramente oramai in serie. Io però provengo dal web marketing, quindi io una volta ero un professionista del web marketing e della comunicazione online, e poi ho fatto di questa esperienza, l'ho usata per occuparmi invece sempre di comunicazione, ma nell'ambito cripto. Quindi sono un professionista del settore.